non ci si può bagnare per due volte nello stesso fiume questo famoso frammento eracliteo ci ricorda che come tutte le cose anche noi uomini siamo in continuo e costante mutamento in continua evoluzione in divenire ma proprio perché oggi siamo altro rispetto a ciò che siamo stati è possibile per un artista immaginefica come Sara Costantini iniziare un dialogo con un'altra se stessa ovvero con i propri disegni e i propri pensieri di quando era una bambina che non si stancava mai di disegnare riprendendo disegni e pensieri di un tempo l'artista di oggi sembra riconoscere ciò che è diventata grazie a ciò che è stata sembra volerci mostrare come in luce tutto era già scritto come in un certo senso il proprio destino si sia compiuto attraverso questi pezzettini questo è il titolo del progetto si sviluppa un dialogo affascinante dal punto di vista umano e visivo caratterizzato dai colori tenui degli acquerelli dalle linee morbide dall'integrazione compiuta con una grazia fuori dal comune tra i disegni della bambina e quelli dell'illustratrice negli spazi bianchi che la memoria ha lasciato abbondanti in questi pezzettini dolcemente si inseriscono i ricordi